Allora, direi che possiamo iniziare. Oggi parleremo di HTML, CSS, avete visto dal programma, dal sito del corso, che cerco di aggiornare tempestivamente. Trovate sempre i puntatori alle slide della lezione corrente, in anticipo e così via. Prima di iniziare però vorrei solo fare una piccola premessa riguardo a quanto abbiamo visto un po' di fretta l'ultima volta in aula. Abbiamo fatto quell'esercizio, abbiamo solo impostato quell'esercizio, trovate una possibile soluzione online nella cartella WIC03 della nostra sottorepositori del corso in italiano. Ecco, quello che volevo dire, e che l'altra volta non abbiamo avuto tempo di dire per motivi di orario, è che nel momento in cui andiamo a trasformare una classe per caricare i dati dal database, come abbiamo impostato l'altra volta, avete provato a fare in laboratorio giovedì scorso, dobbiamo un po' ripensare questa classe. Io qui ho lasciato la classe col nome question come nella settimana precedente, però di fatto è una classe che ci va a gestire una lista, un array, un array che contiene dei riferimenti a degli oggetti domanda, anche se ovviamente quando parliamo di oggetti di tipo domanda, question, quindi answer question, answer risposta, domanda eccetera, in javascript non esiste il tipo dell'oggetto, facciamo riferimento a un oggetto generico, ma se lo creiamo col costruttore diciamo che è un oggetto fatto uguale ad altri oggetti che ci vengono creati da javascript, cioè con le stesse proprietà, perlomeno inizialmente. Quindi, qualcuno in laboratorio giustamente si chiedeva, visto che l'esercizio del laboratorio era simile, c'era questa lista di film, ma devo caricare questa lista di film in this.list, filmlist o come l'avrete chiamato, e poi lavorarci sopra o lavorare con le query SQL sul db e fare le operazioni sul db? Beh, dipende, dipende da cosa vogliamo fare a questa classe, classe per modo di dire in javascript, diciamo a questo oggetto. Chiaramente i metodi di caricamento e di salvataggio dovranno per forza lavorare sul db perché non possono fare diversamente, se noi le informazioni le vogliamo ottenere nel db, quando carichiamo, quindi aggiungiamo dei dati, estraiamo dei dati, eccetera, dobbiamo andare a lavorare col database, quindi qui non c'è dubbio. Il dubbio può venirci nel momento in cui andiamo a cercare i dati, no? Carichiamo tutti i dati, che so, beh, tutti va bene, ma quando, che so, ne carichiamo alcuni filtrati, per esempio, carichiamo dei dati che hanno come autore una certa persona, no? Respondent uguale a qualcosa, piuttosto che qualcuno aveva fatto, in laboratorio c'era un like, quindi cerchiamo una stringa all'interno dei valori di una certa colonna e così via, no? Come, quindi, come nome di film, mi sembro cos'era. Ecco, lì dovete scegliere voi, dovete scegliere se volete caricare prima tutti i dati dal database e fare il filtraggio in javascript, oppure volete far fare il filtraggio alla query SQL. Ovviamente, come in tutti gli esercizi di programmazione, ci sono vantaggi e svantaggi, perché se riusciamo a far fare l'operazione al database, la cosa sarà più efficiente quando abbiamo tanti dati, perché non dobbiamo prima caricarli tutti, quindi usare la memoria per caricarli e fare il filtraggio dopo. Se, però, l'operazione di filtraggio, di elaborazione è complicata, non avremo tante alternative. Ok? Quindi, se non riusciamo esprimere banalmente in una query SQL o comunque è una cosa complicata. Quindi, queste cose sono da tenere sempre a mente. Qualcuno si chiedeva questi metodi, alla fine, perché li mettiamo dentro un oggetto question? Perché? Semplicemente per tenere un po' ordinato il codice. Se guardate gli altri corsi in inglese in parallelo, loro hanno fatto un answer list. alla fine questa question diventa più un answer list che una vera e propria question, perché dipende un po' da come vogliamo gestire il nostro codice. Però un answer list che sostanzialmente raccoglie una serie di metodi che in un linguaggio programmazione classico, ad oggetti, avremmo chiamato metodi statici. Se non teniamo l'informazione della lista dentro l'oggetto. Ok? Come la maggior parte delle volte ci capiterà, perché se andiamo a caricare i dati dal DB, i dati stanno nel DB e non stanno in questa lista. Tenerli in entrambi i posti è complicato. Io ve lo sconsiglio per i nostri esercizi, a meno che non sia richiesto esplicitamente, cercheremo di tenere i dati nel database, perché tenere i dati in due posti è complicato. È il problema della cache, di mantenere una copia locale e doverla aggiornare con una copia da un'altra parte, che è uno dei problemi più complicati dell'informatica, come penso ben sappiate. Ok? Quindi a meno di motivi particolari, cerchiamo di avere i dati sempre e solo in un unico posto, in cui scriviamo, leggiamo, così che il codice sia semplice e non presenti bug inattesi. Ok? Quindi fatta questa premessa, anche alla luce di quello che ho visto in laboratorio, oggi parliamo di tutt'altro argomento. Quindi abbandoniamo per un pochettino JavaScript e cominciamo a lavorare, a ragionare sulle applicazioni web. Quindi cominciamo a parlare di web per prima cosa. Quindi oggi parliamo dei linguaggi che ci servono a descrivere una pagina web. Prima ancora però parliamo di architetture web. Dovreste aver fatto queste letture, cioè aver letto questi diciamo documenti, almeno velocemente, che mi hanno dato un overview, una visione della struttura delle applicazioni web, un pochettino di storia delle applicazioni web, che non sono sempre state così, come dire, dinamiche, interattive come lo sono oggi. E dei due linguaggi HTML e CSS che servono a descrivere una pagina web e quindi a creare una pagina web. Oggi come esercizio facciamo la creazione di una semplice pagina web. Ho messo online ieri sera questo mockup che è su week 04 del nostro solito repository, che in realtà ho preso in prestito dal mio collega del corso in inglese, visto che l'ha fatto così carino. Noi cercheremo di creare una pagina fatta così, ovviamente statica, nel senso con contenuto fisso. Ma cerchiamo di impostare qualche cosa che poi ci servirà per le prossime volte quando cominceremo a cercare di renderla dinamica. Ok, l'ha chiamato molto simpaticamente heap overrun, perché copiamo stack overflow, quindi abbiamo cambiato stack in heap e overflow in overrun. Vabbè. Ok, quindi se ci sono dubbi sulle letture, ben volentieri vi rispondo, andiamo a cercare i punti che sono stati più critici. Se no, abbiamo qualche slide qui dentro da vedere rapidamente questa mattina prima di concentrarci sul nostro esercizio pratico di creazione della pagina web. Ok? Quindi sono slide che scorreremo molto velocemente, perché tutti i concetti dovreste averli già tutti o quasi acquisiti dalle letture che abbiamo dato da fare. Ci saranno certe cose un po' più particolari, per esempio il CSS, sul CSS ci fermiamo un po' di più, soprattutto sull'layouting, eccetera, perché sono cose che è importante conoscere e che dovrete poi usare effettivamente abbastanza ampiamente. Ok. Ovviamente questa è un'introduzione, quindi chiaramente noi durante tutto il corso andremo a creare un'applicazione web. Quindi l'obiettivo del corso, anche per l'esame, è quello di consegnare un progetto con un'applicazione web funzionante, lato client, e creare il corrispondente lato server che ci serve a farla funzionare. Quindi ovviamente tutte queste cose andremo a dettagliarle in media, quindi qui facciamo solo un'introduzione. Questo è, diciamo, uno schema, penso il più generale possibile che si può fare per quanto riguarda l'architettura di un'applicazione web. C'è un utente che interagisce con un frontend, tipicamente il vostro computer, il vostro telefonino, un dispositivo che è in grado di far girare un browser, quindi il programma che ci consente di navigare su internet, diciamo così in maniera molto grezza, e all'interno di questo browser si compiono una serie di azioni tra cui parlare con un sistema remoto, il backend, quindi un server, che ci fornisce la possibilità di interagire con delle richieste e da quello riceviamo delle risposte. Sul backend, quindi sul dispositivo remoto, il server con il quale interagiamo, possono avvenire tutta una serie di azioni anche abbastanza complesse, quindi c'è tutta una questione di logica applicativa nella quale, per esempio, il backend può andare a interagire con un database per caricare dei dati, per memorizzarli in maniera permanente, con il file system, eccetera. Ok? Mi raccomando fermatemi se c'è qualcosa di non chiaro, io vado abbastanza rapidamente su queste cose. Quindi il frontend sostanzialmente è il browser, oggigiorno è il browser, che voi lo vediate o non lo vediate, in molte applicazioni addirittura che girano sui vostri telefonini, voi installate l'applicazione ma dentro c'è un browser embedded, che non vedete, che non vi fa vedere la barra dell'urlo, eccetera, ma sostanzialmente è un browser ed è sostanzialmente un'app che fa girare un'applicazione web. Questo è il motivo per cui ovviamente le applicazioni web sono di grande interesse oggigiorno. Dovremo studiare bene cosa capita nel browser e oggi parleremo di HTML e CSS, le prossime volte di tutto il resto che ci serve a completare la nostra conoscenza del browser per scrivere le applicazioni web interattive, quindi di come funziona il JavaScript nel browser, quindi le peculiarità presenti all'interno del browser, il modello della rappresentazione del documento HTML, che in parte intravediamo oggi, gli eventi, eccetera. Ok, una pagina web è composta da codice HTML che può fare riferimento ad altre risorse. Ci sono due tipi di risorse che a noi interessano particolarmente. Una sono le risorse che descrivono lo stile della pagina, tutti gli aspetti di presentazione, colore, caratteri, dimensioni, eccetera, layout, posizionamento degli elementi all'interno della pagina, che saranno dentro questo CSS di cui parliamo dopo. E poi il codice JavaScript, perché le nostre applicazioni sono interattive, sono in grado di rispondere alle azioni dell'utente, quindi avremo del codice che scriveremo noi, con l'aiuto di libreria, eccetera, sapete che andremo a parlare di React, per far interagire l'utente con la pagina. E poi ci sono altre risorse, diciamo statiche, quindi fisse, per esempio le immagini sono la classica risorsa che è fissa e viene caricata per abbellire o comunque rappresentare quello che interessa a noi all'interno della pagina web. Avete i link a tutte queste risorse, forse questo è addirittura uno di quelli che abbiamo consigliato nelle letture. Ok, ovviamente sapete, avete tutti usato un browser, non nel caso che la faccia tanto lunga, ma nella pagina web potete fare tante azioni, tra cui cliccare, se cliccate sui link, link diciamo tradizionali, viene caricata una nuova pagina, quella che corrisponde a quel link che avete cliccato. E sulle pagine, se lo prevedono, si può interagire con alcuni elementi, bottoni, form, scrivere del testo o dare altri input. Ok? Impareremo a gestire tutti questi aspetti le prossime volte. Qui trovate un'architettura concettuale del browser, ma diciamo che a noi interessa solo sapere che il browser è un sistema complesso che ci consente di renderizzare, quindi di visualizzare all'utente l'interfaccia con la quale interagisce e nella quale mettiamo i dati e tutte le informazioni che vogliamo presentare e questo programma, alla fine un programma nativo, che per noi potrà fare appunto la visualizzazione guidata dai linguaggi di descrizione della pagina che vediamo tra poco e in più far girare il codice sotto forma di javascript e interagire col server remoto, quindi alla possibilità di accedere alla rete e quindi di inviare richieste in rete verso quel server remoto, il backend di cui dicevamo prima. Ok, sapete che all'interno del browser, di tutti i browser, è presente un ambiente, più che un ambiente, degli strumenti per lo sviluppo e ci sono in tutti i browser, e ve l'ho fatto vedere la prima lezione, lo sapete, per esempio se prendiamo Firefox, Web Developer Tools, questo è il browser Firefox standard, se installate Chrome è uguale, se installate Safari è uguale, non sono tanto pratico di Safari, però installate un altro Edge è uguale, e questi vengono insieme al browser e sono a disposizione di tutti, non ho installato la versione di sviluppo, non ho installato niente di particolare, è importante conoscerti perché ogni tanto ci serviranno per capire che cosa sta succedendo all'interno del browser. Ok, potete farlo su qualsiasi pagina, non solo sulle mie pagine, io infatti adesso l'ho aperto sul GitHub, ma potete farlo, siete curiosi di vedere come è fatto il sito del Politecnico, caricate il sito e aprite il tool di sviluppo, cioè gli strumenti, diciamo, degli sviluppatori, e andate a vedere tutto quello che volete. Se il codice ha qualche errore, no, non ce l'ha, per fortuna, rifatto da poco il sito, avevamo cercato di mantenerlo ben fatto, c'è tutto il codice HTML, c'è tutto il CSS, eccetera, potete, diciamo, con uno strumento abbastanza interattivo anche andare a vedere come è costruito un sito. Ovviamente più il sito è complicato più diventa difficile entrare nella logica del sito se non siamo abituati magari alla tecnologia sottostante, però si può fare. Ok, il browser al suo interno ha questa descrizione della pagina che visualizza, che è, diciamo, gestibile e manipolabile da strumenti esterni quali il codice javascript, che noi possiamo utilizzare per manipolarla. Questa struttura di descrizione della pagina è stata standardizzata e si chiama Document Object Model, di DOM. ci torneremo sopra, però è sostanzialmente una maniera di estrarre e standardizzare le API, quindi le funzioni che ci mette a disposizione l'ambiente di programmazione all'interno del browser per avere accesso da programma, quindi da codice javascript, alla pagina, ai suoi elementi, come vengono visualizzati e così via, e poterli manipolare. E manipolarle vuol dire cambiare quello che il browser mostra, ovviamente secondo la logica del nostro programma, quindi secondo l'interazione che l'utente avrà con il nostro codice. Vi dicevo prima c'è anche una seconda parte che non è solo descrizione della pagina, ma separatamente, il browser moderno è separata ed è la gestione degli aspetti di visualizzazione. Gli aspetti di visualizzazione includono come gli elementi si presentano all'interno della pagina, quindi i classici aspetti di presentazione, colore, dimensione, font, eccetera. e oltre a questo il posizionamento di questi oggetti all'interno della pagina. Sapete che se cambiamo per esempio le dimensioni della finestra del browser, cambiamo la dimensione dello schermo del dispositivo che usiamo per accedere all'applicazione, può cambiare la disposizione e l'aspetto dei componenti delle parti della nostra interfaccia verso l'utente. Facciamo una prova, è proprio live, non l'ho fatta a casa, quindi vediamo cosa succede. Ecco, se ridimensionate la pagina, quindi la finestra del sito del Politec, vedete che il menu è sparito e compare solo più a richiesta. Se noi lo ingrandiamo, il menu è qui a disposizione, non c'è più quel menu sandwich, cosiddetto sandwich, perché le tre barrette, che compare quando la dimensione della finestra è limitata. Noi daremo solo uno sguardo a questi aspetti, ma per farvi capire che tutti questi aspetti ormai possono essere controllati in maniera anche abbastanza efficace dai vari linguaggi di programmazione della nostra interfaccia web, in particolare per questo aspetto del CSS, che impariamo a conoscere tra poco. Sarà un insieme di dichiarazioni, eccetera, ma lo vediamo quando c'è bisogno. E poi potremo importare il codice JavaScript, oggi importeremo solo un pezzettino di codice JavaScript già fatto da qualcun altro, perché ci avvaliamo di librerie che ci danno la possibilità di usare una serie di componenti già pronti all'uso per creare interfacce grafiche diciamo abbastanza ben fatte, che possono facilmente interagire con l'utente, come quelle che diciamo siamo abituati a usare nelle applicazioni moderne. Ma delle prossime volte impareremo a importare il nostro codice JavaScript e a far girare il nostro codice JavaScript dentro il browser. Con la possibilità ovviamente di accedere a tutte le API fornite dal browser, manipolare il DOM, quindi manipolare da codice cosa viene visualizzato e mostrato all'interno della finestra del browser e gestire tutti i vari eventi, per esempio cosa succede quando clicchiamo su un bottone e così via. Ok, quindi di fatto abbiamo visto la parte frontend che è abbastanza standardizzata perché tutti i frontend usano JavaScript, a meno che il frontend non l'abbiate scritto voi in un sistema completamente diverso esterno dal browser, come può succedere in un'app nativa per un dispositivo mobile, ma per tutti gli altri casi se usate il browser questa è la modalità. Ok, cosa c'era nel diagramma di prima? C'era la questione dell'interazione col server, quindi col back-end. Questa verrà sempre e solo tramite il protocollo HTTP, che dovreste già conoscere, c'era anche una lettura di ripasso in caso ne aveste bisogno. Il protocollo HTTP è un protocollo richiesta-risposta, per la parte header, quindi la parte di descrizione iniziale in formato testuale, perlomeno per la versione 1.1, poi nuove versioni, cambiano poco da questo punto di vista, sono solo versioni più efficienti, magari in formato binario con gli stessi dati e così via, però noi interagiremo sempre tramite il protocollo HTTP col server e si fa con una modalità richiesta-risposta, quindi qualcuno farà una richiesta HTTP e quindi il nostro browser, anzi scusate, farà una richiesta HTTP, perché noi la faremo sempre tramite il browser e il server web, server HTTP, ci darà una risposta. Quindi qui vedete una risposta anche abbastanza complessa dal punto di vista degli altri, ma giusto per far capire che ci sono tante informazioni di servizio che viaggiano, oltre ai dati veri e propri, e spesso nelle risposte troveremo dei dati veri e propri, quindi il contenuto HTML, il contenuto CSS, il contenuto JavaScript e le varie risorse più o meno binarie, quindi le immagini e cose di questo tipo. Quindi quello che ci arriva nelle risposte, quindi nel body della risposta, quindi ciò che c'è dopo gli header e dopo la linea vuota prevista dal protocollo HTTP per le risposte che prevedono un body, quindi un contenuto di dati da trasmettere a chi ci ha fatto la richiesta, ci possono essere risorse statiche o anche risorse generate dinamicamente dal server. Questo è il classico paradigma delle applicazioni web di alcuni anni fa, forse già più di 10-15 anni fa, dove c'era meno lavoro sul client e c'era molto più lavoro, processamento e elaborazione sul server, dove il server per esempio ci rigenerava una nuova pagina ogni volta che noi facevamo un'interazione col server. Ok, i tipi di contenuti possono essere variabili, c'è un header apposta che ce lo dice, eccolo qua, content type, text HTML, può essere CSS, può essere JavaScript, può essere appunto un formato binario, un'immagine o qualsiasi cosa, il browser è in grado di interpretare questi header e di interpretare poi il contenuto del body a seconda del tipo che è stato dichiarato nella risposta HTTP. Useremo anche un altro tipo particolare, noi faremo viaggiare, quando avremo bisogno di soli dati, i dati in un formato JSON che descriveremo più avanti. Ok, è un formato molto semplice, testuale, quindi facilmente leggibile, debuggabile, ed è oramai abbastanza standardizzata, abbastanza in uso per l'applicazione in web. Ok, quindi nel momento in cui andiamo ad interagire con un server, di fatto ci troviamo, da una parte abbiamo il client, col browser, c'è una rete, basata per il nostro caso, per HTTP sul protocollo TCP, che trasporta la richiesta del client al server, il server farà le sue elaborazioni, eventualmente coinvolgendo altri server, facendo eseguire del codice, eccetera, ci darà una risposta. Una risposta che andrà a finire nel browser e che deciderà come utilizzarla e se è una descrizione di una pagina o di una presentazione, eccetera, la applicherà a quello che noi visualizziamo all'interno del browser. Quindi, se la richiesta è semplice, il server andrà semplicemente a cercare i dati e ce li ritornerà. Se la richiesta è più complessa, è possibile che ci sia della logica, quindi del codice che gira sul lato del server per andare a recuperare le informazioni che ci servono e costruire la pagina, fornirci i dati e così via. Per esempio, se io chiedo, che so, prendo la pagina web, che mi consente di accedere alle mie email, io mando una richiesta al server e il server, prima di darmi la risposta, deve andare a cercare quali sono tutte le mie email, quindi andare a vedere quali sono le ultime email, se sono arrivate nuove email, restituirmi queste informazioni. Quindi c'è tutta una parte di logica che deve funzionare sul lato del server. Noi non ci concentreremo in questo corso troppo su questa parte, ma è chiaro che qualcosa dobbiamo farlo, in particolare faremo soprattutto le operazioni di accesso al database, quelle che avete iniziato a fare l'altra volta in laboratorio, perché è lì che manteniamo le informazioni e i dati. Ci sono una serie di metodi HTTP che andremo ad utilizzare, il get, post, put e delete. Ed è un metodo più di servizio che altro, serve a vederci una risorsa cambiata, ma nel nostro caso non ci interessa più di tanto. Ma ci sono queste quattro operazioni, quindi di recupero di informazione, di modifica dello stato del server, che va a memorizzare nuove informazioni e di aggiornare delle informazioni o cancellare delle informazioni. Li vedremo tutti a tempo debito, ripasseremo anzi tutti a tempo debito. Il server web appunto è il programma che è in grado di interpretare il protocollo HTTP e di capire che cosa deve fare a seconda dell'url messo nella richiesta HTTP. Quindi se noi torniamo indietro nella... dove è andata? Opla... nell'HTTP... ecco. C'è un url, in questo caso è estremamente semplice, slash, l'url radice del host www.pollitoit.it, il server capisce che noi vogliamo l'url radice e ci ritorna la home page del nostro sito. Qui potrebbe esserci scritto qualsiasi cosa, barra didattica, barra, non so, quello che vogliamo noi, che stabiliremo noi se costruiamo noi il server. E a fronte di questo url il server web deciderà che cosa fare. Quindi ritornarci una risorsa piuttosto che lanciare dei programmi, fare delle elaborazioni, ritornarci dei dati e così via. Ok, a livello logico ogni richiesta HTTP viaggia su una connessione separata. Perché dico a livello logico? Perché a livello fisico poi non è sempre così. Però nel nostro modello concettuale ogni richiesta è una connessione separata quindi vuol dire indipendente dalle altre richieste. Noi facciamo una richiesta, viene aperta una connessione verso il server, viene inviato il dato di richiesta quindi header, eventuale body e ci viene data una risposta del server web. Header più eventuale body. L'operazione è finita lì. Se voglio fare una nuova richiesta si apre una nuova connessione e così via. Questo almeno a livello logico. Ma noi dobbiamo ragionare con questo modello concettuale. Un modello molto semplice che andava bene tra l'altro per le prime forme di interazione web. web è nato lo vediamo tra poco nel 1991 come fondamentalmente una maniera di accedere delle risorse distribuite in rete dei documenti fondamentalmente. Quindi era una richiesta dammi il documento X te lo do poi c'era la possibilità di cliccare quindi c'erano le parti sensibili di questi documenti che automaticamente ci potevano portare con un click ad altri documenti. E' nato in questa forma. però adesso ovviamente si è evoluto in una forma più complicata e noi è quello che andiamo a studiare in questo corso. Queste sono statistiche che diciamo nasce nel tempo che trovano. Curiosità. Esistono tanti tipi di server tanti programmi che fanno da server web molti sono anche aperti open source come Apache come Nginx almeno in alcune versioni e così via qui trovate diciamo delle informazioni di tipo statistico fate sempre attenzione a ciò che effettivamente viene usato rispetto a ciò che c'è in giro perché se voi mettete su un server web in queste statistiche ci finite pure voi ma magari diciamo il vostro sito dopo che avete fatto accesso voi una volta non viene più usato e quindi è un po' diverso magari da quello che effettivamente viene usato in pratica per i siti diciamo attivi o per diciamo quelli che vengono effettivamente utilizzati ma questo vabbè sono curiosità venendo a noi venendo nel pratico come facciamo a scrivere un server web prima di tutto non lo scriviamo lo usiamo fatto ok noi scriveremo il codice della logica di funzionamento che risponde a certi url che ci interessano ma ovviamente non c'è alcun interesse da parte nostra nello scrivere il server web noi potremmo usare uno di quelli lì che abbiamo visto nei grafici già fatti belli robusti eccetera ma è troppo per i nostri scopi perdiamo il tempo a configurare questi programmi che vanno bene per siti grandi complessi eccetera e quindi ci accontentiamo di una cosa molto più semplice questa cosa molto più semplice sarà Express che è una libreria javascript per node quindi come quelle che abbiamo visto finora come il dayjs come school i3 cioè una libreria che si chiama Express che ci fornisce un server web di facile utilizzo ce n'è anche uno integrato in node che si chiama HTTP ma diciamo non va bene per i nostri scopi perché è fin troppo semplice per cui noi useremo questo Express ci sono tante altre alternative come in tutte queste cose vi chiederemo di usare Express richiederemo di usare Express anche per il progetto dell'esame per i laboratori e così via perché così diciamo impariamo impariamo uno che riteniamo sia quello che ci dà col minor sforzo tutto ciò che necessita per questo corso e appunto e tra l'altro è anche abbastanza estendibile e modificabile diciamo in caso di necessità ecco parte di back end che ci dà la persistenza dei dati abbiamo già visto che useremo un database e nel nostro caso useremo questo SQLite 3 su file per comodità potrebbe essere un qualsiasi database server ma di nuovo come il server web se noi lo riusciamo a portare dentro come libreria con un require SQLite 3 require express abbiamo risolto i nostri problemi se dobbiamo installare un nuovo programma è un pasticcio per voi in laboratorio per noi per correggere il progetto e così via ok quindi alla fine come avete visto non faremo query particolarmente complicate saranno fondamentalmente delle select su 3-4 tabelle insert update delete per poter gestire i dati ok veniamo allora all'ultima parte di questo discorso che guarda quello che abbiamo introdotto da un punto di vista un po' più alto quindi architetturale noi abbiamo detto che abbiamo un client il browser un server il server web che a fronte delle richieste su certi url fa certe azioni bene ci sono diversi modi di far funzionare le nostre applicazioni web nel momento in cui vogliamo delle risposte diverse dinamiche che variano a seconda del contenuto del nostro database gli altri dati che abbiamo in giro come le email e così via e vogliamo rendere la visualizzazione sul browser dinamica in funzione di questi dati abbiamo diversi modi di approcciare il problema uno può essere quello più classico quello che è stato usato fino a poco tempo fa ma che in alcuni siti diciamo così datati viene ancora usato ossia che ogni volta che noi facciamo un'azione sul client nel browser un click su un link su un bottone eccetera viene inviata una richiesta verso il server del server che decide che cosa fare ok quindi ogni volta il server decide che cosa fare ci manda indietro una nuova pagina il browser la carica e ci viene mostrato il nuovo contenuto questo è il primo approccio l'approccio diciamo così tradizionale classico quindi un'applicazione web in cui il rendering cioè la decisione di cosa far vedere ed è mandata al lato server ok questo si porta dietro il fatto che il nostro la nostra applicazione web è un'applicazione cosiddetta multipagina una pagina diciamo che corrisponde a un link un url ok nel momento in cui clicchiamo come facciamo a indicare al server web dove vogliamo andare cosa vogliamo fare fondamentalmente con degli url diversi e quindi ci saranno degli url magari anche dinamici quindi costruibili dinamicamente contenuto che varia secondo di cosa facciamo che dice al server che cosa fare e il server ci crea la nuova pagina ok questo è il pattern architetturale tradizionale quello che veniva usato per creare applicazioni web fino appunto a qualche anno fa ok adesso vabbè si c'è tutto il disegno va bene ok quindi c'è tutto il lavoro viene fatto da questo lato sul lato del server quindi c'è quello che viene chiamato application server dove c'è la logica ma la stessa logica che dicevamo prima ok che può interrogare anche altri server database server eccetera qui ho messo solo database server ma potrebbe esserci un altro server che dice quali sono le nostre email quindi email server piuttosto che altri server per altre informazioni ok ecco un pattern un'architettura per sviluppare applicazioni web un po' più moderna è quella è quella del cosiddetto single page application spa spa questa spa è quella che vedremo in questo corso e come vengono costruite la maggior parte delle applicazioni moderne poi ci sono diciamo qui c'è scritto tre ma le altre due sostanzialmente sono varianti di questa ok quindi il server non fa più gran parte del lavoro ma il server viene restituisce prima di tutto sempre e solo la stessa identica pagina per ogni url quindi di fatto gli url in questo caso non servono più a caricare le nuove pagine le nuove visualizzazioni ma semplicemente servono vedremo poi dopo a caricare dei dati ok c'è il diciamo la logica di funzionamento parte della logica di funzionamento dell'applicazione che gira sul client quindi nel browser come programmata nel linguaggio javascript che è l'unico linguaggio che il browser è in grado di capire e che si caricherà tramite l'api che abbiamo detto prima del browser di accesso al DOM quindi alla rappresentazione nella memoria della pagina del browser si incaricherà questo codice di modificare il contenuto aspetto e così via ok e allora dove ci vengono fuori i dati beh c'è un meccanismo per andare a chiedere ad un server un server che sarà sempre http perché noi non possiamo distaccarci dal protocollo http perché è l'unico veramente supportato da tutte le parti quando avete l'accesso a internet e questo server sarà in grado di fornirci l'informazione grezza da mettere nella nostra pagina web chi la mette il codice che gira sul lato client nel browser tramite il javascript che abbiamo scritto noi quindi c'è un server web che l'unica cosa che fa è darci la pagina iniziale e poi c'è il codice lato client che interagisce con l'utente e a seconda di cosa fa l'utente va richiedendo la nuova informazione e costruisce le nuove presentazioni le nuove visualizzazioni della pagina questo è il modello single page application c'è solo una pagina quella caricata inizialmente tutto il resto è costruito dal codice sul lato del client con che dati? con i dati che vanno chiesti ad un server che può anche essere lo stesso server quindi possono essere urla particolari dello stesso server web piuttosto che un altro server ma di questo parleremo più avanti quindi passiamo dall'approccio tradizionale a un approccio single page application dove ciò che viaggia non sono più pezzi di pagina HTML CSS eccetera ma sono i dati e come vi dicevo prima useremo il JSON perché ci viene particolarmente comodo e non c'è più la logica sul lato del server o meglio ci sarà un po' di logica diciamo per l'accesso ai dati per fare delle operazioni sui dati come dicevamo prima la query la query SQL va fatta sul lato del server non è che possiamo farla sul client il database sta sul lato del server però il decidere cosa visualizzare come visualizzare che pezzi HTML aggiungere togliere eccetera questa parte che abbiamo chiamato qui logica del server web sarà tutta sul client ok molte applicazioni sono fatte così non stiamo inventando niente di nuovo in questo corso stiamo di fatto imparando a fare delle applicazioni moderne che sono fatte così per esempio se voi aprite un google doc sapete creare una nuova pagina vi mettete a scrivere eccetera la pagina non si ricarica però state salvando i vostri dati come fa la pagina a salvare i dati con questo meccanismo ci sono delle richieste risposte che viaggiano verso un server che si incarica di mantenere i vostri dati e il lato client ha del codice che si incarica di gestire la visualizzazione della vostra pagina ok ma molti anche altri molti altri siti applicazioni web diciamo più tradizionali sono fatti con questa logica oramai quasi tutti sono fatti con questa logica ovviamente questa sì c'è una domanda nel single page abbiamo una sola interazione ogni tanto con la base dati sì diciamo che abbiamo un'interazione con un server che si incaricherà di fare tutte le azioni sulla base dati tipicamente che chiediamo di fare scriviamo qualcosa di nuovo nel google doc si salva quello che abbiamo scritto andiamo avanti nella pagina visualizziamo una pagina che non era visibile prima va sul server e chiede i dati che avevamo scritto prima che non erano spariti non erano più visibili e così via solo il codice viene mandato tipicamente solo all'inizio alla fase di caricamento dell'applicazione quindi noi apriamo l'applicazione il codice viene caricato all'inizio e poi il codice che autonomamente può andare a fare queste richieste http e sono quelle che faremo con quella famosa fetch che avevamo accennato una lezione o due fa che ritorna no forse la scorsa lezione le promise e quindi bisogna saper gestire la programmazione asincrona e tutte queste cose che vedremo ok grazie per la domanda così vivacizziamo un pochino per quanto si possa vivacizzare una lezione di questo tipo va bene ma ovviamente non è tutto rosa e fiori nel senso che non è che le single page application risolvano tutti i problemi o come dire ci portino solo vantaggi rispetto all'approccio tradizionale perché l'approccio tradizionale aveva se vogliamo uno svantaggio che ogni volta che interagivamo con l'applicazione bisognava fare un'interazione in una richiesta risposta con il server che poteva essere lenta però aveva anche il vantaggio che erano perfettamente chiari i vari stati dell'applicazione quindi le varie pagine le varie visualizzazioni che noi andavamo ad avere nella nostra applicazione perché ognuna corrispondeva a un url del server web se adesso non abbiamo più gli url del server web questo diventa scomodo da certi punti di vista per esempio arriva il vostro browser scusate il motore di ricerca che sarebbe come il vostro browser carica la vostra applicazione e se non fa girare il codice si vede solo il contenuto iniziale html css della vostra applicazione e basta perché se non gira il codice non si possono creare le altre viste le altre presentazioni dei contenuti e quindi questo può essere uno svantaggio che in qualche maniera vista la diffusione del single page application piano piano si sta risolvendo non esiste più la storia del browser il bottone indietro quello che piace tanto forse non a voi ma a molti utenti perché non sanno come fare per tornare indietro c'è un bottone indietro sul browser e questo funziona nel momento in cui abbiamo dei nuovi url no? adesso no vabbè adesso tutti i siti in qualche maniera lo supportano però diciamo noi abbiamo la possibilità di tornare indietro con questo bottone c'è un altro url se è un altro sito web il problema non si pone ma se siamo nella stessa applicazione come facciamo a tornare indietro se c'erano solo più viste e l'url era lo stesso se non c'è un altro url niente viene caricato nella storia di questi url quindi questo può essere un problema ok? e poi avere tanta logica che gira sul client ci espone a potenziali problemi di sicurezza quando diciamo incontreremo qualcosa critico lo evidenzieremo e bisogna fare attenzione a non mantenere informazione sensibile dal punto di vista della sicurezza sul client non facilmente accessibile ecco e poi lavorare sul client potrebbe essere lento questo dipende prima ho detto è più veloce è più lento dipende dal dispositivo sul vostro dispositivo un dispositivo mobile un dispositivo embedded può essere più lento che for fare rendering al server in generale se avete un browser moderno un computer rapido abbastanza veloce una CPU abbastanza veloce tendenzialmente è meglio che lavorare col server perché evitiamo la richiesta risposta e possiamo aggiornare l'interfaccia immediatamente non aspettiamo la risposta del server per aggiornare l'interfaccia però dipende dai casi quindi vantaggi e svantaggi l'importante è essere a conoscenza di queste cose avercele ben presente ecco esistono diciamo altri modi di approcciare il problema in cui parte del rendering è demandato al server parte al client quindi è una combinazione di single page application e server side rendering ma lo lasciamo da parte così come le progressive web app abbastanza diffuse in ambiente mobile che fondamentalmente emulano il comportamento di un'applicazione nativa cioè vi presentano qualcosa che è un po' più persistente e fondamentalmente diciamo con una logica di funzionamento simile all'applicazione web vi danno però l'impressione di lavorare su un'applicazione che è completamente locale quindi dove tutto avviene completamente locale ok come facciamo ad implementare questi tre pattern di programmazione beh la cosa che vorrei farvi notare su questa slide è che sostanzialmente se noi abbiamo una parte lato server che è ben fatta che implementa per bene le azioni di cui abbiamo bisogno per il trattamento dei dati della nostra applicazione fondamentalmente possiamo supportare un qualsiasi tipo di queste tre applicazioni dalle single page application a quelle miste a quelle progressive perché? perché le azioni fondamentalmente sono ciò che la nostra applicazione deve fare quindi avremo delle API che impareremo a pensare una parte importante del tema d'esame è pensare bene queste API sul lato del server perché meglio le pensate meglio funziona la vostra applicazione e anche meno avete da fare con la vostra applicazione lato client ok bisogna imparare a dividere bene ciò che deve fare il client e ciò che invece deve fare il server è da fare sul server o è meglio fare sul server ma ci arriveremo diciamo nel discorso durante il corso insomma vabbè qui trovate un po' di statistiche ma insomma questo giusto per farvi capire che ovviamente il front end fondamentalmente è tutto fatto sempre in javascript perché se c'è il browser c'è javascript i browser supportano javascript e qui non c'è granché da dire sul back end potete avere le più diverse tecnologie perché perché la questione è solo rispondere a delle richieste HTTP poi come lo fate non interessa perché il client al client non interessa ok questa è una curiosità Wikipedia non insomma ok se non ci sono domande io proseguo e andiamo a vedere qualcosa di HTML ma l'avete già diciamo intravisto nelle vostre letture siamo rapidi e su queste cose non diciamo due parole veramente introduzione rapida dell'HTML tanto dopo lo proviamo in un esempio cerchiamo di focalizzarsi sul cosiddetto HTML5 l'HTML si è evoluto molto siamo partiti nel 1991 prima che voi nasceste probabilmente con questo signore Tim Berners-Lee che era un ricercatore che lavorava al CERN di Ginevra e aveva il problema che aveva sempre i documenti diciamo in formato elettronico sparsi a destra e a destra su computer di Tizio di Caio e così via e c'era il problema di averli accessibili diciamo dai computer ovviamente collegati insieme in rete però non c'era una modalità semplice per averli accessibili se andava avanti forse a cartelle condivise o non so che altro meccanismo e quindi ha detto possibile che non si riesca a risolvere questo problema cerchiamo di risolvere facciamo in modo che tutti i computer espongano diciamo i documenti che vogliamo che siano accessibili agli altri principalmente all'interno dell'organizzazione poi questa cosa si è evoluta anche fuori e questi documenti cerchiamo di scriverli in un formato standardizzato in una maniera che siano facilmente navigabili quindi si possa passare facilmente da un documento all'altro e ha inventato l'HTML l'HTML non è inventato che un linguaggio che ci consente di descrivere un documento in un formato facilmente compressibile a un computer quindi a un browser che ce lo visualizza e che ci consente di navigare quindi di muoverci da un documento ad un altro con un semplice click ok e quindi è nato l'HTML diciamo 1.0 1991 poi questa cosa si è evoluta è stata ovviamente standardizzata da degli enti di standardizzazione internazionale e così via eccetera e siamo arrivati all'HTML 5 diciamo standardizzato nel 2014 ma in realtà è diciamo un living standard nel senso che viene continuamente aggiornato sia passato da single release o qualcosa che viene mantenuto attivamente punto interrogativo è la loro icona l'icona non è un boh semplicemente l'icona diciamo che c'è stato un certo salto di qualità tra l'HTML 4 e il 5 perché fino all'HTML 4 sostanzialmente ragionavamo in termini o di pagine web statiche quindi documenti navigabili ma documenti immagini eccetera quello che volete ma documenti siamo arrivati al punto di cercare di creare applicazioni web di tipo tradizionale con le varie pagine come dicevamo prima e diciamo nel passaggio verso l'HTML 5 ci siamo mossi verso applicazioni web che fossero più dinamiche più orientate a quello che effettivamente si cominciava a fare cioè usare il browser per interagire e quindi per per interagire con delle di fatto vere e proprie applicazioni ok quindi l'HTML 5 prima di tutto non è un solo standard ma una famiglia di standard quindi se andate a vedere dentro ci sarà xHTML 5 va bene ci specifica qualcosa sulla sintassi HTML quindi gli ultimi tag le ultime cose che sono state introdotte ma c'è anche audio video ci sono dei nuovi elementi introdotti ci sono degli aspetti di API quindi il browser supportando HTML 5 supporta anche delle API delle funzionalità nuove per esempio dei workers di una maniera di far fare delle azioni al browser di eseguire del codice al browser e così via quindi c'è 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 poi tutto ciò che diciamo riguarda diciamo una serie di aspetti addizionali comodi quindi fondamentalmente delle API per lavorare su diciamo diversi tipi di dispositivi e sì dispositivi e tipi di dato e poi fondamentalmente abbiamo un po' da parte ma questo sarà un altro diciamo è sotto lo stesso cappello ma è un altro aspetto è la questione del CSS quindi c'è la questione di presentazione ok quindi diciamo che noi quello che in uso comune è quello racchiuso dalla linea gialla quindi fondamentalmente non è che useremo tutte queste tecnologie però diciamo che le cose che diciamo potenzialmente oggigiorno possiamo usare sono queste racchiuse dalla linea gialla che sono più o meno supportate da tutti i browser che supportano HTML5 che oggigiorno vuol dire sostanzialmente tutti quelli moderni ok vi ho detto prima è uno standard live standard c'è uno standard vivo nel senso che viene aggiornato continuamente quindi come faccio a sapere se certe funzionalità sono supportate o no e questo in effetti è un po' un problema ci sono tanti siti web adesso ho cliccato su can I use cosa è che mettevamo nella slide cosa c'era drag and drop posso usare il drag and drop è supportato drag drop vediamo cosa viene fuori ok mi dice più o meno qual è lo stato dei vari browser del supporto dei vari browser eccetera perché perché come dire ognuno fa quello che vuole le funzionalità più comune più comuni saranno supportate da tutti i browser ma le funzionalità un po' meno diffuse un po' complicate un po' diciamo meno di uso meno comune magari non sono supportate da tutti i browser e qui perché ci troviamo tutta questa lista così enorme beh perché ci sono i browser desktop che sono questi a sinistra ok e poi ci sono tutti i browser per dispositivi mobili anche browser abbastanza come dire non voglio dire di nicchia ma insomma meno diffusi ok inclusi i browser di default che so per esempio il browser default dei dispositivi android piuttosto che quello di apple e così via ok quindi questa cosa è sempre da tenere a mente nel senso che ok html5 è chiaro che tutti supporteranno i tag html head body table lista paragraf e così via quelli che vediamo che avete già visto nelle vostre letture però è chiaro che se andiamo verso cose più esoteriche soprattutto a livello di funzionalità come appunto drag and drop io faccio il drag and drop di qualcosa all'interno della pagina ho l'api corrispondente che mi consente di agganciare l'azione dal lato javascript e diciamo capire cosa è avvenuto e reagire di conseguenza non è detto devo sempre un po' verificare comunque diciamo dal punto di vista nostro per le finalità di questo corso non abbiamo problemi non c'è bisogno che ci preoccupi di questi aspetti perché tutto quello che vediamo e di cui abbiamo bisogno sarà ovviamente supportato perché rimaniamo su un livello abbastanza di base però in futuro per voi se doveste lavorare in quest'ambito ovviamente dovete fare un pochino di attenzione ok allora documento html non ci va tanto da capire è un documento di testo apriamo un editor e lo scriviamo lo scriveremo per comandità in viso studio code perché così ci colora tutto ci mette ordine va a capo ci fa l'indentazione tutto però se aprissi l'editor di testo e ci scrivo dentro questo codice tutto funziona il browser non ha bisogno né dei colori né dell'indentazione la struttura è un documento html 5 composta da due parti la prima linea che dichiara che il documento è l'html 5 e poi un elemento html root quindi radice che ha dentro un head e un body che le head sono informazioni diciamo di servizio dove si possono caricare i fogli di stile quindi quelli per la presentazione il codice javascript eccetera e poi il body che effettivamente ci mostra contiene il contenuto ok vedete qui l'esempio a destra doc type html con dentro head e body perché dico dentro perché la sapete la struttura html sono dei tag che definiscono il punto di apertura e di chiusura di uno certo pezzo di documento la chiusura è lo stesso tag con lo slash davanti ok nel momento in cui l'html arriva nel browser il browser fa il cosiddetto parsing cioè interpreta l'html si costruisce il suo albero l'albero del DOM document object model cioè una struttura dati nella memoria che rappresenta l'html che noi gli abbiamo dato e su cui dicevamo prima si può anche poi intervenire via codice eccetera notate che ci mette anche il testo è il testo tra un pezzo tra un tag e l'altro ok questo è anche accessibile via javascript ovviamente un testo che corrisponda agli a capi spazi eccetera non ha una visualizzazione particolare cioè è invisibile per noi però nella struttura c'è e sarà anche manipolabile e questo lo dico perché magari più avanti ci serve i tag definiscono una serie di elementi che sono fondamentalmente di due tipi di tipo blocco e di tipo inline cosa vuol dire? vuol dire che sono trattati in maniera un po' diversa dal browser nel momento in cui bisogna decidere come visualizzarli l'html è una descrizione del contenuto una volta che ho una descrizione del contenuto devo decidere come presentarla all'utente il browser ha una serie di regole di default di presentazione ci sono una serie di questi elementi html che sono di tipo blocco cioè fondamentalmente vengono sempre messi su una nuova linea e rappresentano un'area rettangolare all'interno della nostra pagina web piuttosto che altri documenti altri scusate tag che rappresentano un un elemento che non inizia una nuova linea quindi messo di seguito come se scrivessimo in line e occupa solo il suo spazio anziché cercare di occupare tutto lo spazio disponibile e se non diciamo niente è disposto da sinistra a destra come scriviamo noi ed eventualmente va a capo ok? diciamo c'è un elemento blocco che ci fa un rettangolo da posizionare da qualche parte dentro la nostra finestra del browser piuttosto che degli elementi in line che sono come dire dei pezzetti di di contenuto scritto di contenuto non necessariamente scritto che vengono disposti secondo le regole classiche della scrittura uno dietro l'altro andando a capo ok due parole sugli elementi html noi vediamo alcuni di questi tag poi potete sbizzarrirvi per conto vostro a cercarli a provarli e così via noi come sempre evidenziamo solo le cose che ci interessano di più quindi ci sono dei tag html che sono particolarmente utili dal punto di vista semantico per dividere il contenuto in sottoparti per esempio header e footer il nome dice tutto sono la parte iniziale e la parte finale della mia finestra di visualizzazione magari voglio visualizzare qualcosa in cima una specie di testazione piuttosto che mettere qualcosa visibile da tutte le parti in in fondo la mia finestra di visualizzazione questo a livello logico stiamo parlando del livello logico poi come vengono presentati ancora un'altra questione però a livello logico io ho dei contenuti che vorrei tenere diciamo come contenuti diciamo prima del contenuto principale della mia pagina e altri dopo piuttosto che potrei avere appunto article non so il contenuto principale quello che voglio scrivere all'interno della mia pagina quello che voglio visualizzare piuttosto che elementi di navigazione che contengono dei bottoni delle funzionalità che mi consente di muovermi all'interno della mia applicazione altri elementi di header quindi di titolo fondamentalmente questi H sono heading nel senso di titolo piuttosto che altri altri elementi questo è giusto per darvi un'idea di come potrebbe essere visualizzato un documento HTML5 questi tag header nav eccetera sono stati introdotti in HTML5 per darvi l'idea del perché potrebbe essere utile una rappresentazione semantica di questo tipo ok poi in realtà le regole browser di default non fanno questo layout fanno layout una cosa dietro l'altra e il layout lo dobbiamo decidere noi ma questi tag ci servono per noi che leggiamo il codice HTML per ricordarci che se c'è una cosa scritta dei trader probabilmente è un qualcosa che io voglio visualizzare in cima o verso l'alto della mia pagina footer qualcosa di sotto aside di lato navigazione mi serve per navigare e così via ok posso raggruppare i miei elementi ecco qui il div che useremo tantissimo è un tag neutro che mi consente di raggruppare degli elementi di tipo blocco e quindi poter con degli attributi assegnare un certo tipo di comportamento di presentazione piuttosto che di posizionamento all'interno della mia pagina ci sono altri tag di cui vedremo beh A A è forse il più naturale quello che è stato inventato per i link anchor no un ancora in termini di html vuol dire un link vabbè img ok span è l'equivalente del div ma forse c'è una slide no va bene è l'equivalente del div ma è un tag in line quindi mi consente di racchiudere degli elementi in line e assegnare anche lì un comportamento di presentazione di posizionamento eccetera voglio fare tutto rosso voglio fare tutto in grassetto voglio fare tutto cliccabile voglio fare tutto con lo sfondo verde e così via racchiudo con span non posso racchiudere con div perché mi viene fuori un blocco ma posso racchiudere con span e tengo insieme degli elementi html ed è trasparente non ha un'azione di default come altri tag se io metto un a di default viene fuori un link dal browser quindi se io devo racchiudere qualcosa non posso racchiuderlo con un a perché poi mi viene tutto evidenziato come se fosse un link devo metterci span per poter fare qualcosa su tutti questi elementi che io voglio tenere insieme e stessa cosa per il div precedente per i blocchi ho anche degli elementi interattivi i più classici che useremo sono button input select e texteria avrete sicuramente aperto una pagina ma apriamola così ci annoiamo un po' meno sempre il politecnico così non andiamo a aprire la pagina nessun altro qui c'è una casellina dove potete scrivere in questa casellina vediamo cosa viene fuori potete scrivere potete cliccare non mi trovo forse ho ricliccato no ho ricliccato va bene però sono elementi con i quali potete interagire eccolo lì va bene quindi possiamo inserire questi elementi dinamici questi elementi sono fondamentali perché noi vogliamo creare applicazioni web vogliamo fare in modo che l'utente possa interagire e se puoi interagire solo tramite dei click su dei link non è che possa fare tanto se invece puoi inserire dei dati puoi aprire delle liste puoi selezionare dei dati in maniera un po' complessa possiamo creare dei bottoni al bisogno a cui agganciare del codice e così via questo è assolutamente interessante possiamo creare tabelle va bene ve le guardate con calma possiamo assegnare degli attributi ad ognuno di questi tag e lo faremo diffusamente perché ci serve tra poco col css ma ci servirà anche per specificare il comportamento dei nostri tag quindi ci sono due attributi particolari class e id che possiamo assegnare a tutti i tag e che ci ritornano molto utili per definire uno un comportamento tipico di quel tag che può essere replicato su altri tag definito esternamente tipicamente in fase di definizione della presentazione in quel css che dicevamo prima e class può contenere anche più identificativi di classe mentre id è un altro attributo che possiamo usare che di solito contiene un identificativo univoco perché ci serve ad agganciare di solito da codice ma anche da css si può fare uno specifico elemento all'interno di tutta la pagina di tutto il documento html e quindi ovviamente se l'id non è unico non ci servirebbe a nulla ok ecco c'è un terzo style lo vediamo poi col css possibilmente da non usare se non per fare qualche piccolo esperimento ma ci serve css per sapere cosa scriveci dentro ecco dei div spagnoli vi ho già detto prima ecco io quello che vorrei dire qui è che ok html5 ha introdotto questi nuovi tag section header nav aside article eccetera non è che ciò che ha introdotto html5 in questo senso cioè una struttura semantica del documento sia assolutamente indispensabile per realizzare la nostra pagina web noi potevamo fare la stessa cosa col div che già esisteva semplicemente assegnando per esempio degli id e poi assegnando lo stesso comportamento ai vari div secondo diciamo l'id la chiave che abbiamo assegnato tramite l'id e in effetti è quello che andremo a fare che noi scriviamo il documento come lo scriviamo a sinistra con i vari div o che noi lo scriviamo con i nuovi tag html5 perché i nuovi tag html5 sono semplicemente per distinguere il contenuto all'interno della pagina html e non sono quindi sono di tipo semantico per chi legge l'html ma non sono dei tag che hanno un comportamento di default particolare associato glielo dobbiamo mettere noi il comportamento di default ok quindi solo le regole css che vedremo tra poco ci aggiungeranno questo comportamento quindi di presentazione di posizionamento qui vabbè diciamo che questo è se volete usare al meglio in tag html c'è una piccola guida e una navigazione sia allora usa nav ha senso da solo usa article eccetera però questa è diciamo una questione semantica di per sé potete fare tutto con i div è una questione di organizzare bene un documento come potete scrivere un tema nel momento in cui scrivete un tema potete decidere come organizzarlo e nelle varie sezioni del tema potete metterci il tag html5 piuttosto che div tradizionale con qualche identificativo che vi aiuta di più a capire come è strutturato il contenuto della vostra pagina html di nuovo questo ve lo guardate possiamo fare la validazione ma diciamo a noi non interessa particolarmente che l'html si validi secondo un qualche standard ma sicuramente dobbiamo fare attenzione che quando apriamo i tag li chiudiamo anche perché poi quando andremo su react se non lo facciamo ci darà un errore quindi il documento html è un documento che ha una sua struttura formale quindi apriamo un tag da qualche parte lo dobbiamo chiudere se no l'albero corrispondente nel DOM non si sa più come viene gestito dai vari browser i browser in qualche maniera si aggiusteranno da qualche parte chiuderanno però non abbiamo più la certezza di che cosa succede sui vari browser il validatore quello potete guardare per conto vostro io lascerei perdere questa cosa appunto anche perché mano a mano che scriviamo se lo facciamo con un edit come il business studio code ci aiuta un po' e poi quando c'è react di mezzo se non chiudiamo ci darà direttamente errore quindi di fatto ce lo valida prima di utilizzarlo io a questo punto prima di iniziare il CSS magari il CSS lo vediamo dopo facciamo un esempio e appunto abbiamo poi facciamo la pausa però prima proviamo a creare una base di una pagina di questo tipo ok ovviamente metteremo in questo momento solo il contenuto e non metteremo diciamo il posizionamento e tutti gli altri aspetti di presentazione il grassetto in ciba piuttosto che cioè noi prendiamo quello che viene fuori di default dal browser però proviamo a scrivere due righe di HTML5 che è poi quello che andrete a fare giovedì in laboratorio quindi noi sapete facciamo sempre cerchiamo di fare un po' in anticipo quello che andrete a fare in laboratorio dunque vediamo un attimo così facciamo pagina page v1 ok no non volevo fare fuori perché non si sposta in wick no uffa perché non mi si sposta ecco va bene così sparisce il resto allora come facciamo a creare un documento HTML scriviamo .html e il nostro Visual Studio Code ce lo interpreta come HTML come facciamo a iniziare a scrivere qualcosa sapete si copia da qualche esempio noi andiamo tranquillamente a prenderci nelle nostre slide per il primo cos'è che c'era c'era un esempio eccolo qua adesso no me l'ha messo come immagine ma fregata vabbè scriviamo due righe allora anche voi in laboratorio se non sapete da che parte iniziare quindi minore doc type tanto Visual Studio Code suggerisce abbastanza bene HTML lang and questo non è fondamentale però diciamo che ci aiuta ok ok vi ha chiuso il tag avete visto che io ho chiuso ho messo il maggiore e è comparso automaticamente minore slash HTML per chiudere il tag adesso tanto lo rifacciamo facciamo così add ok io chiudo e mi compara automaticamente slash add perché perché così rimangono sempre bilanciati io faccio a capo e c'è già il tag di chiusura scrivo dentro fatico meno mi ha già scritto qualcosa mi ha aiutato e così via ok add title ovviamente come faccio a sapere che c'è il tag title c'è il tag add eccetera beh devo studiare un attimino eh però vabbè HTML add body l'abbiamo detto però title eccetera cosa si può mettere nell'add eccetera andate a consultare le guide di HTML pieno di risorse e noi vediamo i tag più importanti poi se vi serve qualcosa di specifico dovete andare a cercare come sempre o chiedere a noi in laboratorio e quindi noi come si chiamava quel sito hip overrun ok va bene add body ok chiuso h1 h non esiste lo invento funziona anche qui tag inventati ma va bene h1 mettiamo dunque cos'è che volevamo testo della domanda testo domanda e poi facciamo una tabella e così tanto impariamo allora non ci serve più il dietro impariamo a fare una tabella vi guido io se no andate su internet mettete html table e vi dice vi dicono tutti i tag che vi servono per fare una tabella tabella dobbiamo creare una riga table row tr table row e poi dobbiamo fare gli elementi ok quindi un header e i vari elementi possiamo anche fare a meno dell'header però siccome poi ci serve lo mettiamo esiste il th table header oppla non è obbligatorio andare a capo anzi adesso non ci vado schiacciato perché così rimane un po' più leggibile il codice diciamo che in quella tabella avevamo la data poi il testo th text della risposta queste sono le risposte th cosa che avevamo ah l'autore author score th score e poi c'era ah si nel mockup c'era add ok no azione action poi sotto ci mettiamo add allora quindi io sto cercando di creare qualcosa di questo tipo quindi adesso ho lasciato un pezzettino da parte non ho scritto answer non ho scritto author non ho messo la parte sotto eccetera però giusto per iniziare creare un documento HTML poi lo aggiustiamo strada facendo ok quindi io ho scritto questo documento salvo quindi file salva e vado a vedermelo un documento HTML come faccio a vederlo prendo il browser e apro il file ok c'è anche il preview diviso studio code che vi sconsiglia un pochino perché diciamo apre un browser interno che non è così sofisticato come il browser come può essere un firefox o un chrome dunque io devo andare a home Enrico e andare a cercare dove sta il file av1.23 github ux 0.4 e il page v1 ok può lavorare dove vuole il file di questo file HTML io l'ho scritto in viso studio code per comandità perché come ho visto mentre scrivo mi aiuta mi mette le cose ma può aprire un editor di test e può farlo dove vuole può farlo in Windows Linux Mac che è quello che vuole l'unica cosa è che nel momento in cui poi lo portiamo dentro l'applicazione web ci riserve tutto il sistema JavaScript il server web node eccetera e quindi dovrà riportarlo dentro il WSL ok però per lo sviluppo HTML per questo specifico lavoro quindi diciamo per il prossimo laboratorio potete farlo sulla piattaforma che volete io adesso qui ho sotto mano Linux perché così c'è la registrazione che gira e tutto quanto e viene comodo qua però è un browser qualsiasi ok magari usate lo stesso browser cioè se sviluppate su Firefox poi lo provate su Firefox perché magari c'è qualche micro incompatibilità per le cose un po' più complicate però io ho scritto questo documento HTML l'ho visualizzato il browser oltre a caricare dalla rete è anche in grado di caricare dal file system locale come avete visto io ho messo un url che non era HTTP eccetera ma ho iniziato con slash qualcosa su Windows si farà non lo so c due punti barra o il disco che avete e potete caricare il vostro file cosa fa il browser lo prende lo interpreta lo visualizza secondo i suoi default ok apriamo ecco io l'ho fatto col tasto destro ma è la stessa cosa di prima ho fatto inspect perché viene comodo se no ci sono i browser i web development tools quindi è la stessa cosa qui ci trovate il codice HTML che avete scritto ok quindi quello che ho scritto tra l'altro anche carino da visualizzare perché è comodo ci chiude i tag alla fine è un albero e quindi possiamo chiudere e aprire dei rami la cosa interessante è che vedete passando il mouse su ogni elemento possiamo capire come questo è stato collocato sulla visualizzazione del browser quindi io metto il mouse su date e vedete che c'è un riquadro intorno a date che è l'elemento della tabella ok tabella che è tutta quella evidenziata adesso ok c'è una sola riga mettiamo magari una seconda riga quindi tr a questo punto mettiamo i td td sta per table data quindi header ne faccio uno solo di solito magari lo posso fare anche in verticale quindi il primo di ogni riga può essere può essere un th e poi mettiamo dei dati dunque cos'era data 2023 303 io avevo messo 07 va bene dai che erano come quelli del codice javascript e poi testo cosa aveva risposto 4 of la domanda era quella là come si scorre come si enumera un array in javascript alice td score cos'era qui ho messo 3 e per ora scriviamo un testo qui mettiamo vote adesso salvo mi raccomando è salvate qui non succede niente perché perché devo ricaricare io il file ok perché ho cambiato il file il browser non lo sa adesso ricarico e mi vengono fuori delle nuove informazioni il bottone qui fa ricarica come ricaricato è un sito web rifate la richiesta iniziale corrispondente all'urdo potete ricaricare il file e qui ci trovate diciamo il nuovo elemento che io ho inserito quindi tutto quello che abbiamo visto finora qui in questo momento c'è la presentazione in default del browser io non ho scritto una riga che dica di fare una cosa diversa dal default del browser ho solo specificato la semantica quindi ho detto che c'è un body con un h1 quindi un header di livello 1 il titolo più grosso del vostro documento più grosso nel senso più importante grosso è un aspetto di presentazione più importante e poi ho messo una tabella con due righe una riga di header e una riga di dati ok e questa è la visualizzazione di default del browser perché mi fa il grassetto sulla prima riga e non sulla seconda ma semplicemente perché di default il browser ha questa visualizzazione perché se io ho messo ho messo table header di default il browser decide che il table header me lo fa in grassetto così come l'h1 ok se io facciamo una prova vediamo giusto per vedere cosa capita salvo ricarico vedete mi sparisce cioè questo è lo stile di presentazione di default del browser ci dobbiamo adeguare a meno che non vogliamo fare noi la presentazione adesso annullo risalvo però fare la presentazione direi che lo facciamo dopo l'intervallo con il css quindi diciamo qualcosa del css perché poi il css scrivere l'html è facile l'avete visto diciamo che una volta che avete deciso di mettere dei paragrafi del testo una tabella una lista mettiamo un posto dove mettiamo una barra di navigazione va bene abbiamo fatto una struttura base di un'applicazione dare la presentazione quindi come appare e il layout soprattutto è una cosa un po' più macchinosa ci richiede un po' di tempo però la prossima ora e mezza la spendiamo su questo va bene allora se non ci sono domande facciamo un po' di pausa e poi facciamo il css con la presentazione e poi facciamo un po' di tempo grazie a tutti